Tutto ciò che mi servirà per questo viaggio è pronto in questo zaino. Allora di fronte è una stazione dedicata a vivere. Non servono questi. Siamo arrivati. Ho recuperato la mia amica Denna, siamo arrivati intanto alla stazione di Messina dove il treno si sta imbarcando sul traghetto. Grazie a tutti. Siamo arrivati a Villa San Giovanni e stiamo scendendo dal traghetto. E questo è il divano letto in cui dormirò. Guardate com'è facile aprirlo.